Buongiorno, mi chiamo Anna Simiscalco, sono istruttrice certificata e di accademia dell'International Young Family Tachichuan Association. Sono istruttrice della scuola affiliata di Roma Insieme per Fare e direttrice tecnica dell'Associazione Dinamica Tachichuan e Arte associate. Oggi sono qui con voi per praticare insieme uno dei movimenti più belli e conosciuti del Tachichuan, Mani come noi vuole. È una sequenza che possiamo praticare anche in ambienti piccoli, io ad esempio ora sono in un salotto. Vediamo ora come iniziare i primi movimenti per poter poi praticare insieme. In piedi dovremmo cercare di posizionare i piedi paralleli, dritti, alla larghezza delle nostre spalle. La testa dovrebbe essere allineata al centro e cerchiamo di spingere lievemente la parte posteriore verso l'alto, ma senza irrigidire il collo, cercando invece una sensazione di sospensione verso l'alto. Rilassiamo quindi le spalle e rilassando appena appena le ginocchia lasciamo cadere il bacino come se potesse poggiare verso i nostri piedi. Le braccia sono sui due lati, distese, mantenendo il cavo ascellare libero e le mani sono aperte con le dita distese e leggermente separate tra loro. Da questa posizione che chiamiamo di centratura, noi possiamo trovare l'asse centrale, quindi dalla testa allineiamo bene al coccigeno. Proviamo ad abbassare un po' la posizione. Sempre mantenendo le ginocchia nella direzione dell'avampiede, questa posizione ci aiuterà a rinforzare la muscolatura delle gambe e da questa posizione possiamo amplificare la sensazione di rilassamento e apertura della zona lombare, l'area da cui vengono tutti i movimenti. E cominciamo a ruotare proprio da questa area, cercando di non ruotare il bacino, vedete, ruotiamo dal centro. Proviamo a ruotare fino a 45 gradi a destra, centro, sinistra. Facendo questo tipo di allenamento noi possiamo individuare il centro da cui nasce ogni movimento. Ora proviamo a muovere le braccia. Anzitutto solleviamo il braccio destro. Due cose sono importanti. Quando solleviamo il braccio dobbiamo stare attenti all'ampiezza della posizione del braccio. Non dovrebbe essere inferiore a 90 gradi e neppure troppo ampia, poco più ampia di 90 gradi, sempre con il palmo rivolto verso di noi. E il gomito dovrebbe essere più basso della spalla e del polso. Quindi dalla posizione solleviamo il braccio destro e iniziamo a imparare a coordinare il centro, il movimento di rotazione del centro con il braccio. E piano piano ci spostiamo verso destra. Quando ruotiamo raggiungiamo la diagonale a 45 gradi ma il braccio va di lato. Continuiamo il movimento, completiamo il cerchio, manteniamo ampia la posizione del braccio e torniamo al centro. Questo allenamento lo possiamo fare sui due lati. Quindi sollevando il braccio sinistro, ruotiamo, coordinando bene il centro con il braccio e facendo un cerchio ampio. Poi proviamo a coordinare il movimento delle due braccia. Le braccia seguono il movimento di rotazione del centro. ruotiamo le braccia nella stessa direzione in cui ruotiamo e insieme alle braccia possiamo portare il peso. Quindi abbiamo a destra le braccia e il peso. Questo ci consente di allargare il passo muovendo il piede sinistro. Torniamo al centro e ora ruotiamo verso sinistra e portiamo le braccia e il peso a sinistra e avviciniamo il piede destro. Ruotiamo, peso e braccia a destra, allarghiamo il passo. Quando facciamo i passi laterali dovremo cercare di mantenere costante la distanza del bacino dal pavimento. E quando avviciniamo il passo dovremo stare attenti a mantenere e a trovare la posizione alla larghezza delle nostre spalle. Quando vogliamo cambiare direzione basterà riportare il peso. Mantenendo la continuità cambiamo direzione. Questo è il modo di praticare mani con il nuvole. Ora vediamo come iniziare e terminare la sequenza. Quindi ci impostiamo nella posizione di centratura. Ruotiamo le braccia e le solleviamo fino a raggiungere l'altezza delle spalle. Mantenendole alla larghezza delle nostre spalle. Lasciamo scendere le braccia e manteniamo le mani rivolte verso il basso. Abbassiamo la posizione sollevando il braccio destro e iniziamo ruotando dal centro spostiamo. Braccia a destra, peso a destra, allargo il passo. Centro. Braccia e peso a sinistra, avvicino il piede. Lo sguardo segue il movimento della mano, ma solo nel passaggio alto. Questo ci consente di mantenere l'asse e la testa allineata verso l'alto. Continuiamo il movimento, mantenendo i cerchi ampi. E quando vogliamo chiudere la sequenza, spostiamo il peso, avviciniamo il passo e incrociamo le braccia. distendiamo le braccia e le gambe, ruotiamo e lasciamo scendere le braccia, sempre mantenendo le mani rivolte verso il basso. Dopo torno alla centratura. Spero di esservi stata utile. Pratichiamo insieme il tecicione. Buona pratica a tutti.